Roll for the Galaxy dopo che avrete consumato le carte dei vostri mazzi nel precedente gioco di carte questa volta invece ci dedichiamo a tirare dadi con cui costruire il nostro impero galattico impero galattico che costruiremo piazzando tessere che potranno essere o pianeti oppure nel verso opposto tecnologie come facciamo? attraverso l'impiego di nostri lavoratori che sono rappresentati da questi dadi e da tutti questi altri a cui possiamo accedere i dadi devono essere acquistati e impiegati inserendoli all'interno della nostra tazza che poi andremo a rollare nascosti sempre dal nostro schermo e una volta rollati andremo a vederne i risultati e a piazzarli sulle 5 possibili fasi che noi possiamo attivare quindi il turno di gioco si sviluppa così prima rolliamo i dadi dopo li andiamo a piazzare in base alle icone che sono uscite successivamente no dopodiché andiamo a selezionare una delle fasi che ci interessano ad esempio la costruzione di pianeti successivamente andremo a svelare i risultati e una volta che abbiamo fatto questo andremo a vedere quali fra le fasi in comune con gli altri saranno attive o meno infatti all'inizio del turno tutte le fasi sono su questo dorso con la x rossa noi andremo a girare solo quelle che in questo turno sono state attivate dai giocatori cosa che appunto essendo una selezione nascosta può essere anche la stessa per più giocatori ad esempio come in questo caso fatto questo andremo a risolvere le fasi nell'ordine numerico che è descritto sopra i tasselli ovviamente solo quelle che sono attive in questo turno tutti i lavoratori che sono stati assegnati a fasi che non sono state attivate ritorneranno nel nostro bicchiere mentre le altre ovviamente verranno eseguite e i lavoratori torneranno fra i nostri cittadini attivi le fasi sono per chi conosce già race sono quelle classiche ovvero di esplorazione dove possiamo andare a acquisire nuovi crediti per l'acquisto di lavoratori o ancora possiamo andare a pescare nuove tessere dal sacchetto per poter implementare tecnologie o ancora pianeti la seconda e la terza fase sono lo sviluppo e la colonizzazione i nostri lavoratori che abbiamo eventualmente selezionato per queste due fasi andranno a porsi sopra le tessere e a cercare di corrispondere ai costi che sono indicati in alto a sinistra delle tessere per poterli poi sviluppare e quindi mettere in gioco ancora la fase di produzione ai pianeti che hanno la possibilità di produrre beni verrà assegnato un dado merce ovviamente di quelli che sono stati posti sotto la specifica fase infine nella fase di ship di spedizione potremmo decidere se convertire le nostre merci o in punti vittoria oppure in crediti per poter poi acquisire nuovi lavoratori appunto a fine del turno fra tutti i dadi che noi abbiamo all'interno della nostra cittadinanza potremmo comprarne uno o più spendendo per ogni dado un credito per poterli riassegnare alla nostra tazza, al nostro bicchiere e per poter ricominciare il turno dal tiro di dadi e via così il gioco finisce quando uno dei giocatori ha raggiunto e ha piazzato in gioco anzi ha raggiunto le 12 tessere in gioco comprese quelle di partenza oppure tutti i punti che sono in gioco sono stati esauriti quando una di queste due condizioni succede il gioco ha fine e si contano i punti che verranno determinati dal valore di costi sostenuti per la costruzione di pianeti e tecnologie i chip che abbiamo collezionato durante la partita e eventuali punti che abbiamo conseguito da tessere bonus il mio sarà il commento di chi può definirsi abbastanza esperto sul suo predecessore di carte ma meno esperto rispetto ai gioconauti su questo titolo vi dirò mi ha abbastanza disorientato inizialmente molto più di quanto non abbia fatto il suo predecessore perché alla complicatezza che già aveva Reis relativamente alla gestione delle azioni che possiamo scegliere nel turno ma soprattutto la complicazione di quelle che erano le carte che avevano molteplici informazioni prima e fra tutte i testi qui si aggiunge un'ulteriore complicazione data dalla gestione dei dadi differentemente da Reis for the Galaxy il motore del gioco non sono più le carte quindi la scelta di cosa far fare alle carte tra le molteplici funzioni che possono assumere qui il motore del gioco sono i dadi che in qualche modo vincolano le nostre scelte ma comunque introducono ulteriori varianti prima fra tutte il colore del dado in secondo luogo il risultato della faccia del dado quindi del tiro del dado che può essere differente che può quindi indirizzare anzi che indirizza vincola la nostra scelta su quali azioni intraprendere e quali sperare che facciano gli altri tra l'altro quindi ecco c'è un'ulteriore variabile che ha molte facce a sua volta quindi inizialmente disorienta molto di più ma il fatto che disorienti in realtà è meno negativo di quanto invece non sia positivo tutto il resto cioè le fantastiche idee che vengono fuori da Reis for the Galaxy prima fra tutte la doppia faccia delle tessere che sono pianeti da una parte e sviluppi dall'altra fantastico quindi posso scegliere se impiegare l'una o l'altra parte ancora fantastica l'idea che i dadi siano lavoratori e quindi in qualche modo dopo aver lavorato rientrano diciamo nel mio pool e solo attraverso i crediti altro aspetto nuovo e positivo quindi solo tramite la spesa dei crediti posso rintegrarli nuovamente nella mia tazza quindi le monete di gioco diventano finalmente un qualcosa di differente rispetto a quelle che erano le carte in Reis for the Galaxy quindi non devo spendere più carte ma devo spendere crediti quindi devo accumulare questi quindi mi libera un pochino da quell'ulteriore vincolo che dava Reis ecco ho l'impressione che normalmente mentre normalmente nei giochi di dadi trasposizioni di quelli di carte le cose tendono a semplificarsi qui avviene il contrario Roll for the Galaxy in qualche modo complica un pochino il regolamento ma non si può definire certamente un gioco complesso da un punto di vista delle meccaniche ma lo rende molto più soddisfacente ecco restano invece due tra virgolette pecche di cui Roll for the Galaxy non riesce a ribellarsi rispetto a Reis è un gioco estremamente solitario quindi ci si accorge che la partita finisce perché uno alza la manina e ha verificato la condizione di fine partita in secondo luogo proprio la fine della partita può venire in un punto qualsiasi del gioco quindi mentre gli altri stanno appena sviluppando la propria colonia c'è chi interrompe la partita perché è arrivato a terminarla non è detto che vinca insomma quindi la vittoria resta comunque imponderabile questo è il bello ma comunque la sudden death del gioco è dietro l'angolo comunque Roll for the Galaxy 7,5 che dire di questo gioco radoso innanzitutto la cosa che mi ha colpito di più appena aperta la scatola è l'impatto scenico di questa marea di dadi che è molto bella è vero sono un po' piccoli però non mi dispiacciono come impatto visivo esteticamente le teste sono sia di buon spessore che delle dimensioni più che ragguardevoli e hanno un'ottima grafica a livello di meccaniche il gioco è fortemente influenzato dal caso ma non tanto per il lancio di dadi bensì per la pesca delle teste ma ci arriveremo prima vorrei parlare degli aspetti più positivi di quello che è un po' l'eleganza della meccanica molto bello il fatto che lanci dadi tre piazzi per scegliere un'azione speciale e nell'arco di una partita di ogni round al massimo ci sono tante azioni praticabili quanto il numero di giocatori è molto difficile che questo accada perché succede spesso volentieri qualcuno sceglie la stessa azione quindi diventa anche un gioco di deduzione il capire che cosa sceglieranno gli altri avversari è vero che il gioco non presenta iterazione però io non l'ho trovato così tanto solitario io continuavo a guardare continuamente quello che facevano gli altri in ogni partita che ho fatto per cercare di nominare che ci sia riuscito questo è un altro paio di maniche però intanto questo ti costringe a vedere cosa stanno giocando gli altri ma ora veniamo un po' a quelli che sono gli aspetti negativi che secondo me si traducono in tre punti il primo è la casualità come ho detto delle tessere perché se a te ti capiscono le tessere giuste fai quello che secondo me è la strategia dominante del gioco il rush nel momento in cui tu riesci a chiudere perché fai 12 colonie tenendo conto che parti già con tre poi effettivamente molto probabilmente la vittoria sarà tua perché gli altri giocatori se non hanno le tessere che gli saranno non arriveranno a fare il motore di punti di cui hanno bisogno non è così impossibile che si riesca soprattutto perché si va a quello che è un altro difetto l'azione produzione l'azione spedizione che dovrà far guadagnare crediti o punti in realtà è leggermente meno conveniente del fare tessere che ti danno subito il dado è vero che il dado non ti dà punti in questo modo perché in quell'altro modo invece se lo piazzi sopra fai l'azione e ti dà da uno a tre punti però è vero che ce l'hai subito disponibile e più dadi hai meglio è perché voi direte li metti qui dopo li pagare per recuperarli non è vero perché se tu risparmi bene prima o poi un po' di azioni riesci a farle perché è difficile che tu scelgono un'unica azione o che scelgono tutte quelle che tu non hai scelto tu e quindi hai maggiori possibilità di farti la tua partita e quello che non hai usato viene rimesso dentro la bicchierina e non viene pagato per essere utilizzato e questo è il secondo difetto il terzo difetto che ho riscontrato e che in genere in questi giochi mi dà un po' fastidio è lo sbilanciamento delle razze voi mi direte si è un gioco però poco più di un filler perché alla fine dovrà essere un problema perché alla fine se a te ti capita questa una razza che ti permette di guadagnare molti più crediti quando fai l'esplorazione per rinunciare ai dati per l'esplorazione di quanto fanno gli altri i crediti significano molto perché ricuperi subito i dati e questo può facilitare paradossalmente anche le strategie di Rush perché poi sviluppi ovviamente i pianeti e le tecnologie molto più velocemente c'è da dire che si è vero il gioco è veloce quindi anche se ti arriva la botta di sfortuna non hai perso due ore della tua vita hai perso 45 minuti poco più quindi complessivamente per me Roller for the Galaxy arriva a 6 allora quando mi sono arrivati con questo gioco ho detto che bello un gioco di fattoni spaziali che vanno in giro a rollarsi i cannoni per la galassia in realtà non è assolutamente così è un gioco che ti porta a pensare nel senso che ovviamente hai le tue risorsine i tuoi lavoratori rappresentati da questi dadi sono alieni bisogna avere anche un po' di fantasia e questi alieni vanno in giro nelle vari pianeti pescati a caso o nelle varie strutture intergalattiche per fare i grandi mercanti dello spazio questa è la tematica del gioco correggetemi se sbaglio messer doc si vuole correggetti ma va bene lo stesso ma perché non è così no no scherzo è così no e e quindi l'ambientazione vabbè ok ne abbiamo viste penso sbalangate ci voglio passare sopra parliamo della grafica la grafica sulle tile scusate sulle tessere è di notevole fattura ma anche la stessa scatola si presenta molto bene quindi questo è un voto positivo i dadi sono un po' piccolini forse mi aspetta un po' un po' più di spettacolarità nei dadi i bicchieri i bicchieri sono pericolosi perché capita noi beviamo delle bevande vicino al gioco dal tavolo e capita è successo che qualcuno beve dal bicchiere attenzione per evitare questo problema tenete le bevande da un tavolo e giocate su questo tavolo con questi bicchieri oppure prendete dei bicchieri bianchi anche se il rischio rimane un altro problema no non è un altro problema valutiamo anche il quick reference che è un un muro di testo si dice in italiano dove ci sono informazioni e si disorienta un pochino viene incontro però la testa la spiegazione dove ci sono dei simboli scritti sempre dagli alieni dove ti viene incontro per le situazioni quindi la lettura l'aiuto per il giocatore non è dei migliori questo va a influire sul voto i punti sono miagolosi nel senso che sono piccolini e poco efficaci questo 5 e 1 non è proprio questo è un 10 quello da 5 ha visto un gatto passare non porta niente di nuovo perché l'ho visto in altri giochi una meccanica simile sempre quello di costruire la potenziamento il pianeta sviluppare le risorse non c'è di nuovo però nell'insieme non è tanto lungo come gioco non è pesante si è disorientati all'inizio però è godibile dopo secondo me la terza quarta partita e basta rimane un solitario che altro dire nient'altro arrivo alla conclusione gli do un voto per me questo role of the galaxy arriva a un 7 sarebbe stato 9 se ci fossero stati gli spacciatori giamaicani nello spazio ma purtroppo manca questa cosa memore del predecessore di questo gioco i confronti sono naturali da fare anche se vorrei cercare di tenermi staccato da race for the galaxy il gioco ha sicuramente un'ottima componentistica sia per quanto riguarda i dadi sia per quanto riguarda le tessere sia per quanto riguarda la grafica che è stata utilizzata che è propriamente presa da race quindi troverete lo stile grafico le razze e tutti i disegni che avete già visto nelle carte di race replicati sulle tessere bene anche il regolamento che è scritto piuttosto linearmente è chiaro già dalla prima lettura e è composto sia di FAQ che di appendici che spiegano o approfondiscono alcuni aspetti che potrebbero sortire delle domande il cuore del gioco come ovviamente immaginerete sono i dadi che sono sì dadi ma si spingono in certi punti a diventare meri cubetti nel senso che quando voi andate a fare la produzione su un pianeta piuttosto che andate a rialloccare uno dei vostri lavoratori in una zona diversa da quella che è il simbolo a cui è stato assegnato beh questi molto spesso si spogliano dei loro simboli dei loro colori per diventare un qualcosa di ben diverso e questo probabilmente è anche il difetto che possiamo trovare durante le prime partite ovvero ho un pianeta che produce una merce di colore marrone ma ho il dado verde allora cosa sto producendo ci sono alcune cosette a cui da cui dobbiamo sganciarci per non confonderci e ritrovarci magari a fare un'azione per poi scoprire che in realtà non stiamo facendo esattamente quello che pensavamo quindi un paio di partite per rodare tutti i meccanismi appunto e sganciarci ogni tanto dalla simbologia e dai colori dei dadi servono per non incappare magari in errori strategici durante lo svolgimento la pesca delle tessere effettivamente può influenzare la partita la cosa buona è che la doppia faccia ci permette sempre di poter scegliere o una tecnologia o un pianeta e quindi di poter pensare a due tipi di strategie diverse ma ancora più buona è la possibilità di poter riciclare le tessere ovvero nella fase di esplorazione io posso scartare una o più di quelle che ho pescato per poterne pescare molte altre dal sacchetto e quindi di avere un maggiore afflusso di tessere fra cui scegliere e quindi di riuscire a improntare la mia strategia chiaramente l'imprinting da dove partire ce lo danno le tessere di partenza che ci danno che sono tre e che ci danno un po' un binario in cui incanalarci starà poi a noi decidere se seguire quel binario oppure in base alle altre tessere che peschiamo cercare una strategia di tipo diverso e qui viene il bello nel senso che il tempo della partita anche nel senso di giocarci le tessere non è così vasto per cui dovremo a un certo punto scegliere e scegliere tempestivamente opportunismo è un'altra cosa di quelle che dobbiamo fare in questo gioco nel senso che in base a quello che ci arriva dobbiamo poi decidere come meglio sviluppare in quel momento in base alle tessere che ci sono arrivate i cambi strategici comunque sono alla portata nel senso appunto che con il riciclo delle tessere possiamo fare grandi cose quindi sì da una parte i tiri di dado la pesca delle tessere la fortuna è presente ma abbiamo anche diversi strumenti con cui gestirla e cercare di farla appendere più verso quelle che sono le nostre strategie a cui abbiamo pensato concludo dicendo che anche l'ambientazione tutto sommato si sente nella parte di riciclo di lavoratori noi paghiamo questi poveretti che ficchiamo dentro alla tazza li scuotiamo brutalmente e li mandiamo a lavorare nelle nostre fasi se hanno lavorato per noi bene li rimandiamo alla cittadinanza se non l'hanno fatto ritorneranno dentro la tazza per ritornare a lavorare quando effettivamente svolgeranno il loro compito molto simpatica questa cosa stringendo arrivando a una conclusione direi che Roll mi ha veramente molto divertito e appassionato in queste partite che ho fatto ne ho fatte quasi di una decina e direi che si merita un otto ma in Avatar c'erano cattivi ah il cattivo era quel che c'è il taglio militare che però aveva una cicatrice che partiva da qua e arrivava all'unghia del vignolo cioè vorresti provare a farti una cicatrice fionnucchi del vignolo fatti male ma tanto male ma tanto male e poi forse adesso è migliore però poi dopo aveva anche il sigaro sì e parlava così i suoi testi non erano granchi erano tutti però è cattivo di Avatar 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 Ata Mera Ata Mera